Io avevo scritto nel 1990 un libro, non so se è il quinto o sesto libro della mia vita, che si chiamava Dizionario sentimentale. Il significato di quel titolo era contrapporre a quella che era una sorta di malattia della mia generazione, cioè l'asfissiante importanza data all'ideologia, contrapporre a questa malattia il valore dei sentimenti, di ciò che è individuale, di ciò che è specifico, di ciò che riguarda i rapporti tra le persone, capisce? Allora dopo 30 anni ho bissato quel titolo di cui ero talmente innamorato. Le idee come ho detto sono una cosa, senza le idee nessuno di noi si differenzierebbe da un animale, le ideologie sono un'altra cosa, le ideologie sono un sistema chiuso entro al quale tutte le risposte sono date, tutti i problemi sono dati per i soldi eccetera eccetera, io trovo che le ideologie abbiano qualcosa di mostruoso. Non ho nessunissima passione né pro né contro, il presente politico-culturale del nostro paese secondo me straordinariamente mediocre, ma soprattutto straordinariamente mediocre è la politica professionale che invece per un lungo periodo in tutta Europa era stata giocata, era stata vissuta, era stata interpretata da personaggi notevoli, notevolissimi. Quando io ero all'università, quelli di noi che avevano più passione politica erano quelli che avevano tutti trentellode nel libretto, capisci? Oggi credo che quelli di oggi nel libretto si hanno dei diciotto, è già un miracolo. Certo in questo momento la prevalenza dei cosiddetti social io la trovo una faccenda demoniaca, perché i social hanno qualcosa di demoniaco, perché? Perché nei social spicca chi schiamazza di più, chi insulta di più e chi dice le fesserie più alla portata di tutti, capisci?